Ciao a tutti i scitrolini, siamo tornati in questo nuovo video. Oggi siamo in compagnia di Assassin Ninja che... aspetta, noi abbiamo fatto il video assieme nella stagione 10 mi sembra, no? Sì, sì. 10, ok, molto interessante. È un po' di tempo che non facciamo un video assieme. Comunque vi lascio il video che abbiamo fatto la scorsa volta, nella stagione 10, in descrizione. Era una challenge abbastanza interessante quando c'era ancora la città con le stelline, che non mi ricordo come si chiama. Era bella quella città, già, era molto bella. Sì, era tra le mie preferite, quando ancora c'era. Praticamente, come avrete potuto leggere dal titolo, non potremmo... cioè, sì, dovremmo per forza mirare. Che poi perché hai scelto l'agenzia? Allora, adesso... Mi ha termato uno, perfetto. Devo continuare a mirare. Non posso smettere. Vabbè, ovvio che quando ricaricare... Quando ricarichiamo, per forza, ci smette di mirare. Ma quello è normale. Allora, dimmi... Allora, secondo te... Anch'io, secondo te, dobbiamo mirare... Cioè, per rompere le cose, possiamo farlo col piccone? Secondo me, sì, dai. Cioè... Se no, non possiamo rompere le cose. Capito? Va bene, ok. Quanto è brutto giocare così, cavolo. Oppure io? No, però il buildare si può. Aspetta, aspetta, aspetta. No. Meglio non commentare l'accaduto, è giusto? Attento, c'è uno scagnozzo. Sì, sì, ovvio. Restarmi, sì. Cioè, le funzionalità, come costruire, eccetera, puoi. Però quando camminiamo o spariamo, dobbiamo per forza mirare. Che paura! Aiuta! Ho uno scildino per te, ciccino. Ah, per sbaglio ho saltato. No, io la mi ero assistita. Ma cosa? Ha sparato a me! Io ho un problema, che ho la mia rossistita con i botti e mi si sbrolla tutto. Restami, restami. C'è una cassa speciale, sento. C'è un inizio partita molto interessante, dove io muoio ben due volte. Ma basta! Bella! Tieni uno. Ho sbagliato, ti hanno dato due. Allora, non so se riusciremo a mirare proprio tutta la partita, perché è una roba difficilissima. Se vuoi ti do il mio. Ti do il mio vampa. In realtà, devo dirti una cosa, ho già saltato per due volte, quindi... Devo ricordarmi di non saltare. Basta, non mi ricordo come si fa il medicoot. Oh, c'è un airdrop vicino a noi. Ok, amico, ho messo in pausa la registrazione, quindi ora possiamo fare il cavolo che vogliamo. Piccone in aria! Molto. E allora, che sono sti metodi? Ecco, a cuccia. Comunque, da computer hai detto bene... Ah! Ok, perfetto. A casa, bello. Prendovi la scheda. Perfetto, sono uno stupido perché non ho salvato questa clip mentre fightavamo. Che bello. È stato molto... Bello. Già. Andiamo all'airdrop. Che brutto camminare così, cavolo. Mi metto un ottimo posto di inventario. Hai colpisci e fino. Ma... No! Già, forse tipo tre minuti, non lo so. No. No. Ok. Non è al premio su premio tu. e tu il cecchino ok perfetto sarà una lunga giornata anzi partita ok stiamo per provare a fare il racket ride mi sono caduto perfetto mamma no c'è gente anche di là dobbiamo sbrigarci quanto so lento dai non è possibile ok ma basta ci rinuncio non so se riprovarci o meno ho la sensibilità troppo bassa per giocare ok così no bellissimo usiamo la jump come sa io ti rendi conto che per andare in safe dobbiamo usare una jump una jump ci rivediamo quando incontriamo gente stiamo per trovare gente stiamo per trovare gente no ma che cosa triste che cosa triste look for in safe vabbè ci metteremo giusto un annetto no no più o meno dai ok dai io credo in noi ce la possiamo fare l'importante è avere fiducia in se stessi no avere autostima e l'airdrop è a 135 metri da noi e noi ci metteremo non lo so troppo tempo troppo c'è un elicottero ci vogliono fregare l'airdrop lo so ma non importa no io continuo con la challenge si abbandona una challenge no aiuto stavo cadendo eh ce l'ho io 95 e 1 non ha shield ma pusharli così come cappero facciamo cioè no amico ha finito le munizioni l'ha terrato uno no l'elicottero scusate ah vabbè in realtà qua ho saltato lo ammetto però eh scusate cioè ho dovuto arrivo un attimo che sto prendendo le armi dai qua dovevo saltare per forza dai diciamocelo arrivo da te in un man che non si dica non è vero aiutino mi no sì ma il pompa può fare così poco danno ho capito che io faccio schifo però tu ce l'hai quasi fatta grande bravissimo vi consiglio vivamente di provare questa challenge per quanto vostro perché è molto divertente anche da fare con persone che conoscete a caso obviato ok mi consigli di prendere shieldini o medikit no medikit io prendo tre medikit andiamo in save oh siamo due contro uno ci vediamo quando troviamo l'altro che così facciamo magari anche una vittoria sarebbe una cosa epica tra l'altro quante kill hai tuo io non sei perfetto non toccare le gomme se no rimbalzi capito quindi perdiamo totalmente la challenge che ci spara? aspetta si grande ci abbiamo fatta ora possiamo smetterla anche grazie molto gentile